T-Quick Winner, ben trovati, i protagonisti di questa puntata, i brindisi delle feste, quindi parliamo di vini, parliamo di bollicine e ne parliamo con un imprenditore che a un certo punto ha lasciato la propria carriera proprio da imprenditore nel settore informatico per seguire la propria passione per l'agricoltura e per i vini, per gli spumanti e quindi Roberto Benazzoli, benvenuto. Grazie. Allora abbiamo detto, anzi partiamo proprio da queste feste, siamo in clima natalizio, l'ultimo dell'anno e per brindare che cosa è meglio prendere? Champagne, spumante, questa diatriba che continua nel tempo oppure c'è qualche alternativa più fantasiosa? Beh la domanda è già una risposta, spumanti, senza nulla togliere lo champagne, io direi spumante, lo spumante si dice solo prosecco, però anche questo è sbagliato, ci sono tutta una serie di produttori che fanno uno spumante col metodo Charmant o col metodo classico, diverso dal prosecco. Il successo del prosecco viene da una semplicità unica, due mesi in autoclave e il prosecco è pronto. Io quando sono partito ho pensato subito di fare una bollicina, perché io sono appassionato di bollicine, per fare una bollicina un po' più evoluta, per cui ho fatto un uvaggio di chardonnay, pino nero e vespaiolo, è un uvaggio particolare, c'è solo a breganze, anche perché il vespaiolo è un vitigno di breganze. La sua azienda è proprio di breganze, la zona di breganze, no? Anzi diciamo subito terre di confine, perché io ho mezzi vigneti a fara, vicentina, e mezzi vigneti a breganze. E per distinguerlo ho fatto un scermalungo sette mesi, per cui la bollicina è sottile, sembra, dico sembra, quasi un metodo classico. Sicuramente da provare, ma torniamo invece alla sua storia, abbiamo detto imprenditore nel settore informatico e poi all'improvviso ha cambiato strada, cosa è successo? Sono i casi della vita. Undici anni fa la casa madre che io rappresentavo nel settore informatico, tra l'altro nel settore specifico dei commercialisti, è stata acquisita da una multinazionale. Io mi sono ritrovato, non avere più l'interlocutore Claudio, che eravamo amici, facevamo viaggi insieme, ed avere un funzionario che mi chiedeva numeri, mi chiedeva margini, per cui nel giro di tre anni ho valutato l'idea di abbandonare, proprio perché per me il lavoro, oltre a essere dovere, era anche divertimento, era una passione, però anche divertimento. E non mi dirittivo più. Il dirittimento l'ha cercato invece nella terra, tanto è vero che nascono le vigne di Romelta. Esatto, io ho avuto la fortuna di essere acquisito da questa multinazionale e mi sono ritrovato, tra virgolette, disoccupato. Ho visto una collina, anche qui è il caso, ho visto la collina, mi è piaciuta, ho conosciuto un altro imprenditore agricolo che aveva appena iniziato ed è sbocciata la passione, che tra l'altro io avevo già, perché mio papà a Rovereto aveva il marzemino, lo faceva per la sua osteria, per cui penso siano, cioè dentro di noi resta sempre qualcosa di vecchio e dopo viene fuori. La passione, l'amore per la teta, le tradizioni di famiglia, quello che si è visto da piccoli, l'ambiente in cui si è cresciuto, ma da imprenditore agricolo quali sono le difficoltà principali che ha trovato? È solo una, secondo me, fare vino è facile, fare vino buono è un po' più difficile, il difficile è venderlo, perché tu puoi avere il più buono vino del mondo se non sei capace di farlo conoscere e venderlo, non sei nessuno. E questo come l'ha risolto poi? L'ho risolto nella mia natura, io sono nato commerciale, io ho sempre creduto nel marketing, ho sempre creduto nell'andare a trovare i clienti, per cui ho fatto un vino buono, non perché lo dico io, ma lo dicono le vendite, nel senso che anche l'anno scorso sono rimasto senza, ho finito tutta la produzione e poi mi piace andare a trovare il cliente. Il cliente però verrà anche da voi prossimamente, perché ho visto che avete in progetto l'apertura anche di una cantina in un casolare ristrutturato per vendere i prodotti della pedemontana e così? Esattissimo, proprio in centro del vigneto c'era un fienile che io ho battuto perché era proprio piccolo, ho rifatto tutto, ho fatto una cantina per fare degustazioni e soprattutto per fare anche il metodo classico, perché da due anni ho iniziato un metodo classico di pinot, di pinot nero, vinificato in rosè e purtroppo sarà pronto solo nel 2016 e naturalmente il torcolato perché ha breganze. Le tecniche invece di coltivazione più tradizionali o più innovative? Ecco qui ho iniziato a fare subito, ho fatto due corsi di agricoltura biologica e biodinamica, però mi sono reso conto che tutti e due avevano dei limiti e delle richieste che a me non piacevano, per cui mi limito solo a non mettere diserbanti nella terra, naturalmente uso gli anticritogrammi sulle vigne, però questo cosa comporta? Comporta che se io faccio un'uva di un certo tipo, ho il solfito che diciamo che è quello che fa, fra virgolette, venire mal di testa quando si beve troppo vino, ecco io ho il solfito, nel mio vino c'è un quarto di quello permesso dalle leggi, perché? Perché l'uva è sana, poi soprattutto ho una collina che è una meraviglia, 24 ore di sole al giorno, se si può dire. Quindi sicuramente questo ha la sua importanza, non solamente vino ma anche ulivi tra l'altro. Nella parte più ripida mi hanno consigliato di mettere ulivi, io ho accettato subito, mi hanno consigliato bene, quest'anno ho già fatto 53 litri d'olio, un sapore impagabile, una soddisfazione impagabile vedere le olive entrare nel frantoio e uscire olio e usare quello per me momentaneamente. In futuro può darsi, quando le olive saranno più grandi magari la produzione è un po' più cospicua. Buoni frutti insomma della terra veneta, ma questa agricoltura di oggi si può interpretare in chiave più moderna e in che modo? La chiave più moderna secondo me è proprio quella, si parla sempre di innovazione. Diciamo che l'innovazione c'è, esiste in cantina perché ci sono macchinari nuovi, ma soprattutto esiste a livello, torniamo indietro nel mio lavoro di prima, a livello informatico. Oggi un produttore non può non avere un sito internet, non può non colloquiare con i clienti, quei potenziali clienti con Facebook, con… ecco queste cose qua secondo me l'imprenditore io non lo chiamerei più contadino, lo chiamo il proprio imprenditore agricolo per quello, non può farne a meno. Molto probabilmente a Breganze diciamo questo che siamo un po' quasi tutti piccoli e quando uno è piccolo fa fatica magari a investire nell'ambito informatico. Teniamo presente che a Breganze abbiamo, io lo dico, il re della comunicazione che è Maculain, Fausto Maculain, che lui credo abbia insegnato a tutti come fare a vendere comunicando la bontà dei suoi vini. Con il torcolato soprattutto. Soprattutto torcolato che diciamo che è il prodotto di punta anche se viene prodotto purtroppo in quantità minime perché ci vuole tantissimo uva per fare una bottiglia di torcolato. Abbiamo parlato di un sito internet, possiamo chiederlo come si chiama il vostro sito? Beh si chiama www.levignediroberto.it E c'è anche poi un gioco che si può fare su questo sito per capire che vino si è. Il gioco si può fare perché anche qui io avevo bisogno di avere, di colloquiare con i potenziali clienti e soprattutto avere le loro informazioni. Per cui abbiamo ideato con un gioco che si chiama di che vino sei, uno entra, risponde a quattro domande e poi gli arrivano tutte le informazioni delle manifestazioni che faccio io. Quindi un gioco anche divertente e tra l'altro un simbolo per la vostra azienda che è un coniglietto. Come mai? Da piccolo mi chiamavano Coneio in Veneto, proprio Coneio. Quando ho acquistato la vigna ho fatto subito il sito internet e soprattutto dovevo avere un marchio di comunicazione. Di solito il nome della cantina è il cognome. Benazzoli purtroppo esisteva già, per cui ecco il nome Levigni di Roberto e il simbolo, il coniglietto perché la persona, lo studio che mi ha seguito come immagine, mi sta seguendo tuttora, ha portato il soprannome nel simbolo, poi dico anche che ho avuto un bravissimo grafico, che ha interpretato il Coneio proprio con un simbolo che si vede dappertutto che è molto bella. È simpatico, sicuramente. Quindi una carriera la sua costruita, una seconda carriera anzi per così dire, costruita un po' sul ricordi del passato, sulla storia anche di famiglia, una scommessa nel settore, una scommessa che secondo lei oggi è stata vinta? Beh, dire che è stata vinta è ancora presto, perché oggi per avere un ritorno, chiamiamo un ritorno economico in questo campo, penso non bastino 6-7 anni, però io sto investendo molto non solo sulla bottiglia, ma anche sulle confezioni natalizie, per cui non si può solo dire questo è il vino, lo vendo, cioè ci vuole anche a Natale, le promozioni ci vogliono, per cui... Quindi bisogna sapere essere bravi agricoltori, bravi coltivatori, modelli, ma anche bravi venditori, insomma, no? Ma soprattutto bravi venditori. E forse la nostra agricoltura, anche qui in vento, pecca un po' su questo secondo aspetto, magari abbiamo tantissimi bravi produttori, ma come diceva prima, con prodotti che si conoscono poco. Che si conoscono poco perché, diciamo, le cantine sono frammentate, ma che questo è una fortuna, per cui ognuno ha la sua caratteristica, però anche a Breganzi ho visto che ultimamente le nuove cantine che sono nate e anche le vecchie, dove ci sono le nuove generazioni, stanno puntando tutto sull'informatica, sul portare a conoscere i prodotti ai potenziali clienti. Torniamo per concludere, così come eravamo partiti, sulla brindisi delle feste, abbiamo detto sfumante, ma se dovessimo dare un'alternativa di qualche tipo, diciamo fantasiosa e quindi originale, diversa, né sfumante, né champagne, qualche vino da suggerire per un brindisi originale? Beh, il vino originale allora lo facciamo col nome di Breganze, lo facciamo col torcolato, perché teniamo per gente che il torcolato, io tra l'altro ho fatto una confezione natalizia proprio sul torcolato e abbinato ai formaggi, il torcolato si presta molto bene sui formaggi erborinati, per cui lasciamo fare il pasticcio, lasciamo fare il tacchino, ma alla fine invece dei dolci magari mangiamo una fettina di gorgonzola e lo accompagniamo con un bel bicchiere del torcolato. E questo era il consiglio di Roberto Benazzoli che ringraziamo per essere stato con noi in questa puntata. Grazie. Grazie e buone feste. Grazie, buone feste anche a voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.